E' io? Allora dai, ce l'abbiamo fatta, abbiamo montato tutto, abbiamo montato l'impossibile, noi siamo i figli della povera schifosa, io sono solito presentarmi sul palco nudo e puzzolente, mi hanno detto no, una delle due, mi sono vestito, se vi avvicinate avete qualcosa da raccontare ai vostri figli. Per scaldare il pubblico noi siamo soliti in terra con un bel flamenco, quindi vogliamo tutti a bailare sui tavoli insieme a un grappello di puffi mudi. Il batterista ha detto no, vi prego. No, il batterista è l'ultimo arrivato, perché? Iman non fa l'ultimo arrivato. No, 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 in realtà questa si fa a costa di mandarlo via. E' 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 Grazie, grazie, adesso che siete caldi posso finalmente ringraziare il nostro gruppo Spalla che ci ha scaldato il pubblico, dove sono finiti, sono la nascosta, iniziamo sul serio, cioè sul serio è una parola molto grossa, proviamoci. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.